Salve a tutti. Prima di iniziare il video, vorrei anche questa volta invitarvi a guardare tutto il video, fino alla fine, lasciare like, guardare gli altri video, iscrivervi, e condividere. Sapete tutti che la Bibbia dei TDG è tradotta malissimo, ma non per incompetenza, ma perché i quelli del corpo direttivo mentono consapevolmente. Ma non tutti si sono accorti che loro non distinguono l'Antico dal Nuovo Testamento, invece dividono la Bibbia in scritture ebraiche e aramaiche in scritture greche e cristiane. Lì per lì uno potrebbe anche dire che non sarebbe sbagliato, perché effettivamente l'Antico Testamento fu scritto da ebrei in lingua ebraica o in lingua aramaica, e invece il Nuovo Testamento fu scritto da cristiani in lingua greca. Si pongano due problemi. Uno regato al canone biblico, che è una controversia che dura da sempre e che ha diviso prima gli ebrei e poi i cristiani, fin dalle origini. L'altro invece riguarda l'interpretazione della Bibbia, che divide i testimoni di Geova da tutto il cristianismo. Ed è una delle ragioni per cui i TDG non possono essere definiti cristiani. Riguardo il canone biblico, gli ebrei avevano due canoni biblici diversi, uno palestinese e l'altro alessandrino o ellenistico. Il primo era scritto in ebraico e in aramaico da persona di madrelingua ebraica all'interno del territorio palestinese. Il canone alessandrino invece comprendeva anche testi in greco o scritti fuori dal territorio palestinese. Questi testi non erano accettati dagli ebrei o ellenisti perché erano scritti in un'altra lingua e non nella loro nazione. La questione del canone biblico non è mai stata risolta. Non voglio entrare nel merito di questa disputa, ma loro tagliano a corto definendo quei libri come scritture ebraiche e aramaiche. Per quale motivo invece chiamano il Nuovo Testamento scritture greche e cristiane? Qui non si pone il problema del canone o delle lingue bibliche. Sicuramente lo avete notato, ma i testimoni di Geova sono molto legati all'Antico Testamento. Lo usano molto, lo citano spesso e traggono molto del loro, tanto per dire, pensiero e dei loro insegnamenti dall'Antico Testamento. Non posso entrare nel dettaglio altrimenti mi dilungherei. Perché è importante distinguere l'Antico dal Nuovo Testamento? In realtà Testamento significa alleanza. È importante capire che Gesù ha portato a compimento e perfezionato la legge di Mosè. Molte delle cose dell'Antico Testamento, sia da Gesù sia dagli Apostoli, sono state messe da parte. Io di preciso non saprei come trattare il rapporto tra l'Antica e la Nuova Alleanza, ma quello che noi sappiamo per certo è che per i cristiani la legge di Mosè non va seguita. Ciò che ci interessa dell'Antico Testamento è ciò che è direttamente collegato al Nuovo ed è incluso in esso. Se vogliamo essere precisi, nello stesso Antico Testamento bisogna distinguere l'Alleanza con noi da quella con Abramo da quella con Mosè. Se io prendo un brano della Genesi, ad esempio, potrei credere che la Bibbia legittimi la menzogna e l'inganno. Come quando Abramo mentiva dicendo che sua moglie fosse sua sorella, o quando Redecca ingannò Isacco, che era anziano e non vedente facendogli credere che Giacobbe fosse Esau. Io non sto dicendo che l'Antico Testamento vada cancellato, ma come ogni testo va capito nel contesto. E se non capiscono che il centro della Bibbia è l'Incarnazione, la morte e la resurrezione di Gesù, non si capisce il senso dell'Antico, sia cosa è valido per i cristiani e cosa è stato superato. Se per loro le scritture greche non sono una nuova alleanza tra Dio e l'uomo, messa in atto da Gesù, non riescono a capire la differenza tra una cosa scritta nell'Antico da una cosa scritta nel Nuovo, soprattutto perché a loro piace prendere i versetti ed isolarli dal contesto. Per questo loro non possono definirsi cristiani, non mettono Gesù al centro della rivelazione e del rapporto tra Dio e uomo. Per loro è il loro Geova che importa, non Gesù, se Dio è Geova allora cosa cambia tra la sua parola detta nell'Antico e la sua parola detta nel Nuovo Testamento, quindi in questo modo si può far dire alla Bibbia ciò che si vuole. Come spiegavo negli altri video, le loro pubblicazioni, soprattutto cosa insegna realmente la Bibbia, sono una collezione di frasi della Bibbia, o meglio, della loro Bibbia, per avvalorare le loro tesi, e si tratta di passi di qualunque testo dalla Bibbia, soprattutto dall'Antico Testamento, senza alcuna analisi esegetica accurata. Per ora mi interessa sottolineare che senza la distinzione tra Antico e Nuovo Testamento si sminuisce la figura di Gesù e la novità del suo messaggio rispetto alla legge di Mosè. Così possono tirare fuori regole e insegnamenti, prendendo a caso da tutta la Bibbia, senza fare distinzione tra Antico e Nuovo Testamento. Ciò che a loro conviene, ne fanno un collage e tirano fuori insegnamenti e regole assurde, come il divieto delle trasfusioni, del festeggiare il compleanno, oppure la negazione dell'aldilà, e l'uso di quello che loro credono essere il nome di Dio. Questo è che distingue il cristianesimo dai testimoni di Geova. Spero di essere stato chiaro, grazie per l'attenzione, per il momento è tutto, alla prossima!